ciao a tutti io sono daniele giardina l'autore di impariamo a fischiare edito da notami edizioni musicali e in questo appuntamento vi farò sentire insieme al bravissimo pianista antonio cicottelli lui spuote la testa dice che non è un pianista ma secondo me avrà un futuro in questo ma è molto bravo mi ha accompagnato in questa mia composizione che si intitola microsdream ed è nato come un esercizio ma poi in realtà è diventato un disco nico sdrei antonio cicottelli pianoforte la mia giardina bomba a 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 c a a a a a a ut Io ho anche un sito dove pubblicizzo anche le mie imblocature, il sito è www.danieregiardina.com Ciao a tutti e grazie per aver visto questo video. Ciao! Grazie a tutti.